Stamattina siamo andati a trovare il montone salvato da un consigliere dei Verdi, Salvatore Iudice, dalla festa del sacrificio e l'abbiamo ribattezzato Fortunello perché è stato davvero fortunato a incontrare i volontari del sole che ride. Però questa battaglia ci deve far capire anche le condizioni assolutamente inaccettabili in cui generalmente vengono trattati tutti gli animali. Ho chiamato la polizia, ho chiamato la polizia, non ti devi muovere, quello è un reato, state torturando un animale, ho chiamato io, ho chiamato io, è una cosa regolare, è una cosa barbara. Il posto dove si trova il montone è riservato perché essendoci un'inchiesta in corso, un sequestro da parte della magistratura si preferisce mantenere la massima riservatezza, anche perché chi lo stava portando a macellare lo ha richiesto indietro. Questo episodio ci deve far capire che il benessere animale, il rispetto dei nostri amici a quattro zampe, che siano cani, gatti, ma anche pecore, montoni, capretti, cavalli e così via, deve valere 365 giorni all'anno e non usato strumentalmente per battaglie politiche indegne come ha fatto il Ministro Salvini. Grazie.